Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Andrea Aste che mi chiede di parlare del film Jurassic Park del 1993 di Steven Spielberg. Jurassic Park è uno dei film più famosi al mondo, un incasso gigantesco tratto dal bellissimo romanzo di Michael Crichton che viene a livello di cinegiatura svilito parecchio dalla trasposizione filmica che trasforma un romanzo horror, un romanzo fantascientifico anche sulla condizione della mutazione genetica oppure morale, etica che qui viene riportato in realtà in un film di avventura per ragazzi, da una sceneggiatura tutta sommata abbastanza poco credibile e deboluccia in confronto alla bellezza del romanzo da cui era tratta. La storia appunto è quella di questo filantropo, questo uomo ricchissimo che su quest'isola praticamente costruisce il Jurassic Park, questo parco di divertimento con dei dinosauri creati artificialmente tramite la genetica, insomma trovando una zanzara dell'epoca appunto dei dinosauri che è unita al DNA di sto cazzo di Terano e Danocchi, diventano dinosauri, tutti lo sanno, arrivano nipotini, poi arriva Laura Dern e Sam Neill che sono i due paleontologi e poi c'è Jeff Goldblum chiaramente che è, diciamo così, il filosofo addetto al caos e poi tutto quello che può succedere in Jurassic Park lo sanno tutti la maggiore di quell'infamore ciccio spacca tutto, li infamano, il parco va a puttane e insomma è di lì tutti i mostri che inseguono i nostri, tutti i dinosauri che inseguono i nostri di qui e di là. Chiaramente dove poi personaggi che non avevano alcuno spirito paterno, paterno diventano dei padri perfetti dove il buonismo di Spielberg distrugge una storia che aveva ben altre ambizioni a livello di scrittura bisogna dire però che come film d'avventura per ragazzi funziona alla stragrande a livello visivo quando andai al cinema nel 1983, avevo poco più di 20 anni, 21 anni, rimasi estasiato come tutti dalla visione per la prima volta di dei dinosauri sullo schermo che parevano veri, questa unione di animatroni con questi, la CGI con questo sistema appunto di Tippett funzionava alla stragrande e veniva fuori un effetto notevole, tutte le scene con i dinosauri sono a dir poco fantastiche quello che non funziona purtroppo sono la scrittura di molti personaggi che sono veramente all'acqua di rose lui che parla del caos buttando la goccia va di via o va di là dell'acqua sulla mano ma quello è il caso, che cazzo ci entra il caos? Caos è una teoria da quale dovremmo discutere per mesi e la quale Krypton va dedicato praticamente a delle pagine enormi nel libro che vengono ridotte a una goccia o le va di via e di va e quindi Jeff Colburn diventa un personaggio abbastanza insostenibile e anche credibilmente inutile all'interno appunto dell'isola stessa come i due paleontologi che all'inizio sembrano poter dare qualcosa ma che in realtà lo negozio è danno è semplicemente l'idea di essere sperzi nel niente e di aver perso completamente probabilmente il lavoro questa cosa non li sospettisce nemmeno per un attimo e poi ci sono questi bambini insopportabili che speriamo tutti vengono a essere mangiati da questi cazzo di affari che comunque mangiano solo i cattivi o se o no, diciamo così, i caratteristi all'epoca poi c'era un grande Samuel Jackson che però non si riesce a capire come da solo con PC del 93 riuscisse a tenere in piedi tutto Jurassic Park da solo, veramente delirante in un certo senso un film con una sceneggiatura veramente modesta che però Spielberg mette in scena come da maestro qual è perché poi uno che io odio Spielberg per me ha fatto almeno 6-7 capolavori quindi ditelo di altri registi che io posso dire che ha fatto 6-7 capolavori ma ha fatto anche delle zotte e ha fatto anche dei film come questi che per me soggettivamente sono proprio modesti, non mi dicono un cazzo che visivamente sono meravigliosi a livello di avanguardia, di sperimentazione sugli effetti due cose sono assolutamente da ricordare, un film in quel senso importantissimo che però insomma a livello narrativo non mi ha dato praticamente un cazzo se non un po' di avventura per ragazzi ma purtroppo ero già abbastanza cresciutello per insomma sbattere il muso su certe cazzate e quindi in un certo senso non è un film che mi ha cresciuto, non ci sono affezionato a livello proprio umano di crescita e quindi ne vedo probabilmente in effetti che chi mi è affezionato non ne vede o forse li vedo perché magari li voglio solo vedere, resta il fatto che il film Jurassic Park è un caldo assoluto, è un film che ha segnato un'epoca ha riportato di nuovo di moda i dinosauri e in confronto agli ultimi Jurassic World anche questo sembra veramente scritto da Truman Capote perché in confronto agli ultimi anche una sceneggiatura così modesta su un romanzo così bello sembra veramente un miracolo quindi il link di Jurassic Park è qui sotto penso ce l'abbia tutto il mondo ma se non ce l'avete comunque io lo metto il link va sotto per acquistarlo su Amazon Grazie